Alessandra Primiani, segretaria dell'Associazione APAC. Oggi presenti anche voi con lo stand e con tanti amici a quattro zampi all'associazione, alla manifestazione Collare d'Oro. Noi abbiamo partecipato proprio perché solitamente agiamo comunque sul territorio, sia per le situazioni in cui ci sono cagne non sterilizzate che partoriscono continuamente. Cerchiamo di promuovere comunque la sterilizzazione in quanto sappiamo bene cosa comporta il randaggismo, dato che può essere definito una piaga sociale vera e propria. Quindi la sterilizzazione è uno dei primi passi per combatterlo e anche insomma con le adozioni non solo appunto nel canile insomma comunale di qui ma anche nei vari canili che ci sono in Molise. Cerchiamo appunto di tirarli fuori per regalargli una casa. APAC, Associazione Protezione Animali Campobasso, quando è nata dove si trova? Sì, allora noi abbiamo comunque fatto parte di altre associazioni, abbiamo deciso comunque di crearne una locale e appunto siamo nati circa due anni fa proprio come APAC e appunto ci troviamo a Campobasso, agiamo sia comunque al canile locale che nei diversi canili del Molise per le adozioni. Abbiamo una nostra pagina Facebook dove comunque promuoviamo queste adozioni sia di cuccioli che di cani adulti appunto proprio per cercare loro una casa. Siete tanti ragazzi nell'associazione, vediamo oggi con uno stand anche per raccogliere fondi? Sì, non ne siamo tantissimi e quelli che insomma ci sono cercano di fare il possibile. Alla fine non si tratta di tanto tempo nel senso che chiunque potrebbe partecipare con poche ore anche alla settimana per noi sono tantissime proprio perché le attività sono tante e noi ne siamo troppo pochi. Facciamo un appello anche agli amici e gli amanti degli animali di partecipare, dove trovarvi? Chiunque vuole appunto entrare a far parte della nostra associazione può trovarci insomma su Facebook appunto alla pagina Associazione Protezione Animali Campobasso e ci darà una mano ad aiutarli. Oggi qui avete dei cagnolini simpatici che cercano casa? Sì, loro cercano casa, ovviamente noi prima di affidarli facciamo comunque dei colloqui e comunque poi vengono affidati sia sverminati che vaccinati insomma con tutta la prassi medica del caso e chi volesse adottarli appunto può comunque contattarci sulla nostra pagina. Francesca e Dea oggi al primo concorso di bellezza per cani? Sì, siamo venuti qui per provare, abbiamo portato anche un Labrador e vedremo come va. Lei è Dea e che razza è? È uno Sharpei, ha otto mesi. È una cucciolotta? Sì, è una cucciola. Anche se è abbastanza grande? Eh, abbastanza sì, abbastanza, però è cucciola. Invece il Labrador è come si chiama? Cica. Quanti anni ha? Eh, sempre otto mesi, si passano un giorno. Quindi avete adottato insieme questi due cagnoloni? Sì. Che fanno tanta compagnia? Sì, molto, molto giocano, dalla mattina alla sera si divertono, stanno insieme, si tengono tanta compagnia. Sono grandi amici, possiamo dire quasi più delle persone? Sì, quasi più delle persone. Nicola Riccio, anche la Dolce Napoli insieme oggi per il Collare d'Oro, questa manifestazione nazionale che oggi ha fatto tappa proprio a Campobasso. Eh sì, sì, abbiamo abbracciato questa manifestazione, ci è piaciuto la cosa quando ce l'hanno proposta e è giusto anche per dare un po' di vivacità ad una zona del centro un po' più laterale. E comunque è anche una bella manifestazione per far sì che i bambini si divertano, i genitori. Non è solo una manifestazione di cani di razza, è una manifestazione anche di meticci, quindi automaticamente vengono un po' tutti i bambini e quant'altro che non hanno proprio quel cane di razza, diciamo. Speriamo soltanto che il tempo continui ad accompagnarci come ha fatto da stamattina e cerchiamo di passare una bella giornata di festa, un po' con tutte le persone. Una giornata di festa, una domenica alternativa qui a Campobasso? Eh sì, sì, è giusto per passare una domenica alternativa, diciamo, tra virgolette. Solitamente tutte le manifestazioni, qualsiasi cosa si tengono lì per il centro, nelle villette comunali e quant'altro, questa domenica abbiamo fatto in modo che venisse organizzata qui alla Via Nobile. Come dicevo prima, è giusto per dare un po' di movimento a questa stradina alternativa al centro. Alfredo con Luna, una campionessa. Sì, Luna d'Era d'Abruzzo, lei gli manca praticamente un primo posto e diventa campione d'Italia, oltre a fare prove di lavoro, gli mancano due prove di lavoro vincenti e diventa campione d'Italia anche nelle prove di lavoro. Riproduttore selezionato, niente, stiamo in questa manifestazione, visto che avremo un'esposizione importante a Chieti sabato prossimo, domenica prossima. E quindi siamo in allenamento, diciamo. A Luna che razza è? Luna è un lagotto romagnolo, ovviamente purissimo, con pedigree e niente. Quindi siamo qui per questa esposizione amatoriale, per fare anche qualcosa di bello di amatoriale in una città vicina dove siamo noi di vasto. Quanti anni ha Luna? Luna c'ha cinque anni quasi, il 25 novembre fa cinque anni. Allora auguri anche per le prossime manifestazioni. Grazie, gentilissimi. Giuseppina d'Avasto con Meghi ha la prima esperienza di concorso di bellezza. Prima esperienza? Ci siamo trovati bene, lei è molto socievole, quindi ha fatto amicizia con tutti i cani senza nessun problema. Consiglio a tutti un'esposizione canina, almeno una volta. Ed è bello, ho notato che non solo non hanno il pedigree, sono anche meticci che possono partecipare, quindi questa è una cosa proprio bellissima. Meghi però è di razza. Lei è di razza perché è stato il sogno della mia vita da quando avevo 14 anni, volevo un border collie. Il cane non è mio proprio, è di mia figlia, però quando mi ha detto mamma voglio un cane, ho aperto il cassetto e ho ripreso il mio sogno di 35 anni fa. Nei Meghi vi fa anche compagnia a casa? Sì, sì, compagnia ma non solo, dimostrazione d'affetto che è anche stato il nostro primo cane, quindi noi non sapevamo che un cane potesse riempire la vita della nostra famiglia in questo modo. Quando si chiamano amici a quattro zabe ma sono veri e propri amici? Sì, amici vogliono solo amore, non vogliono nulla in cambio. Noi diamo amore, loro danno il doppio, ci danno sempre di più di quello che diamo noi, sempre, sempre. L'ho potuto dimostrare con Meghi. Adolfo Annecchiarico da Avellino, oggi a Campobasso per questa manifestazione nazionale Collare d'Oro. Sì, è un concorso nazionale di bellezza a quattro zampe, ovviamente io sono il barboncino come potrete vedere. Sì, il Collare d'Oro è una manifestazione che va avanti da tre anni in tutta Italia, infatti non si ferma mai, estate, inverno, autunno, si fa sulle spiagge, sulle piazze, per strada. E oggi abbiamo il piacere e l'onore di essere qui a Campobasso, c'è una folta rappresentazione di amici a quattro zampe, siamo felicissimi, siamo in procinto di iniziare tra qualche minuto e sono sicuro che sarà un ottimo spettacolo. La cosa bella di questa manifestazione è che mette insieme cani di razza ma anche meticci. Sì, infatti non è assolutamente una mostra cinofila questa ma bensì come ho ribadito prima uno spettacolo nel quale possono partecipare razza e meticci perché ci saranno delle uscite che faranno i nostri amici insieme ai loro padroni e si divertiranno tutti insieme, sono loro i protagonisti. Bellezza ma non solo, su che cosa sono puntate le quattro sfilate? Sì, allora le sfilate e le uscite sono quattro e c'è la passerella, obbedienza, affinity e simpatia, quindi un misto di caratteristiche dei nostri amici, di estetica e anche di qualità per vedere ciò che sanno fare e ciò che gli hanno insegnato i padroni. Premi sia coppe che targhe? Sì, ci sono cinque premi dati come coppa, primo, secondo e terzo posto, poi c'è il premio coppa Mr. Cane e il premio coppa Lady Cagnolina e poi ci sono degli attestati che rilasciamo, altri premi tipo Mr. Padroncino, Miss Scodinsola e Sculetta per le più vanitose. Questa è la terza edizione oggi a Campobasso, prossimamente quali altri tappe? Prossimamente saremo a Latina, Fondi, Monte San Biagio, Trieste, Venezia e ci stiamo anche allargando, attenzione, perché a breve, forse l'anno prossimo, già 9 febbraio, saremo a Nova Gorizia, Vienna e forse anche in Repubblica Cieca. È troppo, che dite? Va bene, va bene, per gli amici a quattro zampe. Certo, sempre a quattro zampe. E da Campobasso è tutto, il nostro Viaggio in Molise dedicato a Collare d'Oro finisce qui. Vi ricordiamo di seguire tutte le nostre puntate sui canali 11 e 12 di Telemolise e sul canale Telematico Molise Mio 212. Siamo al canale 96 per chi ci segue dall'Abruzzo e al canale 749 per gli amici che ci seguono dal Lazio. Siamo anche sul nostro sito internet www.telemolise.com e sulla pagina Facebook dedicata proprio a Viaggio in Molise. Noi ci vediamo con il nostro prossimo viaggio. Noi ci vediamo con il nostro canale.